Buongiorno e benvenuto all'appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo subito a fare un aggiornamento sulla situazione in Ucraina. Andiamo a leggere la prima pagina, l'home page del sito Anza che ci riporta le ultime dal fronte della possibile guerra. Putin punta l'Ucraina, sanzioni contro Mosca, ok? Definitivo degli ambasciatori dell'Unione Europea al pacchetto di sanzioni. Arrivano il giorno dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste dell'ext Ucraina. Andiamo a vedere un filmato con le ultime decisioni assunte da Putin che potrebbero davvero far deflagrare il tutto in un conflitto. E' vero, i vissere i suoi obiettivi, i prezzie a questi rupuri, la condizioni è anche in un momento, che già pubblicamente l'Ucraina, l'Ucraina, l'Ucraina diceva che non stanno scegliere i suoi obiettivi. E che ci stanno scegliere? E che prima i suoi obiettivi pubblicamente già scegliere? E che stanno scegliere? E che stanno scegliere? il continuo di questo risultato di persone, di questo genocid. Quindi abbiamo dovuto prendere questo risultato. E in questo modo, sì, adesso il Minnese согlazioni... e ci sono più di 120 alli pesati alli alli in cui si sono arrivati al nord. Ci sono continui a fare lo che è necessario per evitare l'alliazione dalla grossa. Il Stato, il Stato, continuerà di darei assistenza a l'Ukraine in quanto riguarda, e continuerà di rinforzare e rinforzare i nostri alliati NATO. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear. These are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. Allora, queste dichiarazioni, come avete visto, da parte di Putin, poi da NATO, il Presidente degli Stati Uniti, e dunque la situazione è di altissima tensione. Andiamo a leggere i giornali, vediamo cosa riportano le pagine dei quotidiani, si parla ovviamente di questo, sul Corriere della Sera, Putin minaccia e partono le sanzioni da Stati Uniti e Unione Europea, truppe russe pronte ad avanzare, Biden più soldati nel Baltico, Berlino blocca il gasdotto Nord Stream 2. Andiamo a vedere qui invece al centro della pagina la storia, parla la donna, i miei figli condannati, ora confido nell'appello, le liti, la pistola, le botte del padre, l'hanno ucciso per proteggere me. E poi ci spostiamo sulla Repubblica, dove abbiamo due foto che riguardano la crisi in Russia, nella Russia dell'Est, Biden e Unione Europea puniscono Putin, questo è il titolo, il diktat del Cremlino a Kiev, no alla Nato, dimenticatevi la Crimea e il Donbass, quindi pone le condizioni per non invadere l'Ucraina. E qui vediamo anche il Presidente degli Stati Uniti, Biden, anche lui ha dichiarato, abbiamo mobilitato le forze militari, non vogliamo combattere contro la Russia, la nostra è un'azione difensiva dei nostri alleati baltici. Andiamo qui sulla stampa, Biden-Putin la pagherà cara a nazioni, sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea contro banche e oligarchi. Blinken annulla l'incontro con Lavrov, stop tedesco al gasdotto Nord Stream 2. E qui vediamo Putin e Biden in foto, in prima pagina sulla stampa. Il Fatto Quotidiano, che invece parla di tutt'altro, dedica sempre uno spazio minore, in prima pagina le vicende del Donbass, dell'est Ucraina, Putin per ora fermo al Donbass, sanzioni Stati Uniti e Unione Europea contro i russi, in attesa delle armi, la guerra si fa economica. Andiamo a vedere qui in basso invece il titolo di apertura, che è quello su Renzi e la nuova nipote di Mubarak. PD e destre anti-PM, 5 Stelle e l'Eupro, vergogna al Senato, assalto alle toghe, leader di Italia Viva, mentre su Open come Berlusconi menti su Rubi. E la casta trascina la procura di Firenze alla consulta, perché sequestroia i WhatsApp di un tizio non eletto, rispettando la legge. Andiamo sul gazzettino, attacco su larga scala, Mosca non si ferma, allarme della Nato, Stati Uniti e Unione Europea sanzioni alla Russia, alta tensione in borsa. E poi un'analisi della situazione prezzi nel nord-est, esplode l'allarme prezzi, osservatorio il 95%, preoccupato dal caro vita, giù, lavoro e sicurezza. Poi qui il caso, una delle tante follie dei Novax, cercasi positivi a pagamento per contagiarsi. Davvero incredibile, davvero incredibile quello che succede. Ciao, sono di Udine, cerco positivi in zona, va bene anche in Veneto, qualcuno positivo che si fa offrire un buon caffè o uno spritz, non c'è, cerco a me strappato, scrivetemi in privato. Questo è il mercato del Covid che funziona attraverso questi messaggi, questa ricerca di positivi per infettarsi e dunque bypassare il problema della vaccinazione per ottenere il super green pass, che si può ottenere con la guarigione dal Covid. Davvero follia, follia pura. Il manifesto, le grandi impotenze, il quotidiano comunista le definisce così, sulla crisi ucraina, l'Unione Europea e l'unanimità decide per le sanzioni, ma sono graduali e blande. Biden annuncia misure contro gli oligarchi e ribadisce l'invasione ancora possibile. Putin ha il via libera della Duma per impiegare le truppe all'estero. Questo è stato uno dei primi segnali, è un primo segnale che da un momento all'altro Putin potrebbe invadere l'Ucraina. contro il contagio delle democrazie illiberali. Ci sono vari articoli e si comincia qui a sinistra, vari capitoletti di questo tema, con sanzioni tutte e subito, non c'è tempo per sanzioni graduali. Poi il tedesco Scholz gioca sedio e sospende Nord Stream 2, quindi Biden, Putin non ha il diritto di ridefinire i confini degli altri. e ancora le ambasciate si svuotano, l'Ucraina aspetta il fronte e gli alleati chiede più garanzia. Sotto l'attestata il sogno di Putin, l'Europa nuda, le sanzioni insufficienti, il pacifismo silente, il Papa, i tabù sul gas, una chiacchierata con Romano Prodi su questo tema. La verità quotidiana diretta da Maurizio Belpietro, che così come il fatto quotidiano abbiamo visto in questi giorni dedicare meno spazio alla vicenda russa, Russia-Ucraina per meglio dire, e piuttosto invece tanto spazio alle vicende della gestione della pandemia. La lobby delle chiusure che dà linea a speranza, ai conflitti di interesse di Ricciardi, il consulente del ministro che si oppone a Draghi e in una rete internazionale che spinge nel mondo la strategia Zero Covid, nomi, fondi e intrecci, tutto lecito, ma chi decide cosa si fa in Italia, lui o il governo o il Parlamento? Renzi assalta i PM, stravince in aula, ma in tribunale i suoi familiari prendono sberle. Andiamo su Libero, che titola così, pagheremo noi il conto di Putin, salasso ucraino, l'Occidente impone sanzioni alla Russia e blocca il gasdotto sul Baltico, sarà una mazzata per l'economia italiana, nella maggioranza si divide, al centro non c'è alcun reato, archiviata l'inchiesta sui soldi di Fontana, un altro assalto fallito. Pure il PD vota contro i PM per l'inchiesta su Matteo Renzi. Ed ancora il giornale, roulette russa, invasione e sanzioni, Putin muove altre truppe, vuole anche Odessa e non si fermerà, via alle ritorsioni dell'Unione Europea su gas e banche, Biden arma gli ucraini, chi si farà più male? I timori di Draghi, evitare una guerra energetica e commerciale, i generali e gli ex KGB, i Rasputin dello Zar, dietro a questa decisione. Poi le democrazia zoppate dalle loro elite, che remano contro il caso del mondo libero in difficoltà, come lo definisce il giornale in questo articolo. Poi andiamo a vedere a destra, da Budapest a Minsk, gli accordi e i trattati diventati ormai carta straccia. Ed infine, alleati contro Salvini, Soft, Meloni no, sulle scelte di Mosca, i sovranisti si dividono, l'Europa affonda le navi delle organizzazioni non governative, la Corte di Giustizia Europea, leciti i blocchi delle imbarcazioni. Andiamo a vedere invece solo le 24 ore, così chiudiamo la rassegna nazionale, sanzioni, debito russo nel Milino, bloccato il gasdotto Nord Stream 2, venti di guerra in Ucraina, decisione di Europa e Stati Uniti, con le banche e il mercato, le titoli di Stato di Mosca, che vengono boicottati, bloccati, colpiti, la Germania che congela il nuovo gasdotto, Londra contro gli oligarchi, e poi Biden che parla di una invasione con restrizione alle banche e alla banca dell'esercito. Dunque partono le sanzioni, le iniziative, per provare a far ragionare Putin. Speriamo che queste iniziative colgano nel segno. Continuiamo da rassegna, adesso andiamo a vedere i giornali locali, ci spostiamo sul messaggero di Udine. Prima però vogliamo farvi vedere un video nel quale viene riassunta la situazione delle terapie intensive della nostra regione, perché come sapete c'è stata anche tanta polemica, le terapie intensive ci sono, non ci sono, posti letto promessi non attivati, se n'era interessata la trasmissione report, ma ci sono dei numeri ben precisi che vengono illustrati in un video con una dettagliata ricostruzione dei posti letto nelle nostre strutture ospedaliere destinati alla terapia intensiva. Vediamo il video. Siamo al 12esimo piano della Torre Medica, è un piano che è stato dedicato esclusivamente alla patologia Covid, è stato costruito durante la piena emergenza, verso la fine della primavera del 2020, in circa tre settimane e ha 15 posti letto su quest'ala e altri 15 sull'altra, quindi 30 posti letto di terapia intensiva completamente attrezzati. Il 13esimo piano è invece dedicato alla pneumologia Covid, sono allestiti 26 posti letto, quindi 30 posti letto qui, 26 posti letto al piano superiore, 56 posti letto tra terapia intensiva e semi-intensiva che lei può filmare e sfido qualsiasi giornalista a venire a vedere. È vergognoso dire ciò che è stato detto in quella trasmissione perché è stato semplicemente menzionato un qualcosa di falso, falso e questo la cittadinanza lo deve sapere. Ecco, 261 posti disponibili di terapia intensiva nella nostra regione, i livelli sono stati più volte superati, quelli relativi all'occupazione di malati da Covid-19 che adesso invece stanno rapidamente scendendo, stiamo raggiungendo il livello della zona bianca che è al di sotto dei 17 posti letto occupati su 261 da malati Covid. Ieri l'ultimo bilancio dava 18 ricoveri Covid in terapia intensiva, segno di una pandemia, come stiamo dicendo ormai da qualche giorno, che sta calando, sta vedendo diminuire tutti i parametri e ancora lentamente calano i decessi. Speriamo che si possa iniziare in questo caso a calare rapidamente il numero dei morti, sia a livello nazionale che a livello regionale. Andiamo sul messaggero, ecco la qui da prima pagina, il messaggero va su argomenti nazionali, che è quello delle sanzioni degli Stati Uniti alla Russia per il caso della crisi nell'est Ucraina. Ci sono risvolti economici che riguardano molto anche la nostra regione che ha degli scambi economici con l'Ucraina, con la stessa Russia molto importanti. le sanzioni potrebbero bloccare alcuni scambi e quindi si potrebbe avere una conseguenza dalle parti nostre per quanto riguarda le aziende che hanno a che fare con l'est europeo. Poi ancora tutte le analisi che riguardano il comportamento dell'Italia e delle forze politiche italiane sul caso Ucraina e Berlino che blocca il gas d'otto. Andiamo a vedere invece la pagina di cronaca della nostra città. Eccola qui, con stipendi congelati, mentre tutto aumenta, è difficile anche la spesa. È stata fatta una inchiestina all'esterno dei supermercati, la gente ha risposto sul caro prezzo, all'aumento delle bollette, sono aggiunti anche quelli per servizi e beni di consumo, gli effetti dell'inflazione si fanno sentire. Ecco cosa dice la gente fuori dai market, costa tutto di più, inutile negarlo, e purtroppo l'aumento dei prezzi riguarda tutte le catene di supermercati. È un aumento generalizzato che non dipende da strategie dei marchi di grande distribuzione, ma dal costo aumentato delle materie prime. Questa è la prima pagina del messaggero di Pordenone, come vedete i titoli, la foto e tutto il resto sono uguali a quelli della pagina di Udine, poi ci sono le notizie di cronaca che sono diverse. Vi invito a seguire tutti i giorni il nostro telegiornale su Pordenone, dedicato a Pordenone, alle ore 19.45, è in replica alle 23. Il Tg Pordenone, che fa parte della nostra ora di informazione, informazione che inizia alle 19 con il Tg, parliamo dell'informazione serale, alle 19 con il Tg, alle 19.30 con il Tg Sport, e poi a seguire il Tg dedicato a Pordenone. Questa è la prima della cronaca della città di Pordenone, dove si parla di episodi di violenza a Torre, e sono coinvolti anche giovanissimi. L'allarme è lanciato dal dirigente dell'istituto comprensivo Vladimiro Giacomello, il bene comune, la comunità ritrovi la propria identità, partendo proprio dalla scuola, Andiamo a vedere invece in alto, piazza Costantini sempre più riqualificata, ma mancano le attività commerciali, ed è un'area da valorizzare, scrive il quotidiano, il messaggero, la città che si trasforma, spostiamoci sul gazzettino, leggiamo i titoli della prima pagina relativi a questioni però locali, sono questioni locali, ma sono questioni mondiali, se vogliamo, quelli delle opere olimpiche, perché c'è stato il passaggio di consegne da Pechino 2022 a Milano Cortino 2026, però ci sono ancora problemi organizzativi, soprattutto per quanto riguarda le strutture, opere olimpiche, la corsa contro il tempo, dal Boba alle varianti, soldi, scadenza incognita, inchiesta sui lavori per i giochi del 2026. Per quanto riguarda i nodi della politica in vista delle amministrative, Tosi convince Forza Italia, con lui vinciamo a Verona, sul nome di Tosi si è scatenata la polemica interna alla Lega in Veneto, interna al centro-destra, adesso pare che si stia trovando una quadra, e a nord-est esplode l'allarme Prezzi, l'osservatorio parla di un 95% delle persone intervistate preoccupate dal caro vita, calano lavoro e sicurezza, crollano giù, lavoro e sicurezza nella percezione delle persone che sono state intervistate. Ci spostiamo adesso all'interno, sulla pagina che parla nel primo piano della crisi in Ucraina, e approfittiamo anche per ricordare a tutti che questa sera ci occuperemo delle grandi truffe del Superbonus 110, che è stata definita una delle truffe più grandi della nostra Repubblica, dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, avremo una testimonianza esclusiva di un cittadino che è stato truffato perché ha stipulato un contratto con un consorzio che avrebbe dovuto effettuare i lavori, ma ormai sono passati quasi due anni, i lavori non sono stati effettuati, però questo consorzio ha acquisito il credito fiscale dell'ignaro cittadino, dunque bloccando di fatto la possibilità di ristrutturare la casa, di riqualificarla sotto il profilo energetico e di accedere di nuovo ad un bonus. Quindi ci sono davvero grossi problemi per tante persone che hanno denunciato questi fatti, ne parleremo stasera con una testimonianza esclusiva di una persona che rimarrà anonima e poi con l'intervento di Barbara Puschiasis di consumatori attivi e di Esther Soramel che difende alcuni, rappresenta alcuni dei presunti truffati contro queste società che non hanno effettuato i lavori ma hanno preso i soldi acquisendo i crediti fiscali poi scontandoli in banca, quindi monetizzando il credito fiscale di queste persone che hanno subito assolutamente un danno e potrebbero anche vedersi di chiedere dallo Stato la restituzione delle somme che queste società hanno prelevato indebitamente. Andiamo avanti, continuiamo con il gazzettino ma ci spostiamo questa volta sulla pagina del Friuli. I Novax pagano per contagiarsi. Nelle chat di Telegram la ricerca di persone infettate per farsi trasmettere il virus e poi ottenere il Green Pass. Si offrono dai 50 ai 200 euro per incontrarsi di persona ma così c'è anche chi è finito in ospedale oppure è morto. Il personaggio, il calciatore cileno a corno di rosazzo per investire in vigneti, in vino dunque. Alexis Sanchez, ce ne siamo occupati ieri e abbiamo anche intervistato Moschione che vediamo qui in foto insieme proprio ad Alexis Sanchez. andiamo a leggere qui Vigneto Friulano per Alexis Sanchez e diventerà quindi un nuovo produttore di vino prossimamente, l'ex calciatore dell'Udinese attualmente all'Inter che potrà dunque mantenere sempre più saldo il contatto, il legame con questa terra che lo ha lanciato nel grande calcio. Vediamo un po' anche all'interno altre notizie che arrivano dal Gazzettino. L'incubo tra gli anziani due anni di Covid il primo focolaio alla casa di riposo Micoli Toscano poi ci furono 17 vittime il ricordo del direttore noi impotenti di fronte al virus siamo ancora sotto sciocco atterriti ecco qua vediamo una delle case di riposo dove purtroppo ci sono state vittime in questi due anni di terribile pandemia il piccolo di Trieste truppe russe e nazione Stati Uniti sanzioni durissime quindi apertura nazionale del quotidiano edizione di Trieste quindi edizione principale poi di spalla scocchia porterò il di caffè in borsa obiettivo Stati Uniti e Cina centro commerciale e parcheggio Alex Fiera il progetto si sblocca andiamo a leggere invece la pagina di Gorizia e Monfalcone vediamo quali sono i titoli se permane anche in questa edizione il titolo sulle vicende della Russia e dell'Ucraina ed è proprio così cambiano le notizie di spalla e dunque la cronaca parla Moretti del Partito Democratico basta vetti sui nomi del PD azzerata la terna e poi scambio di sessi al Pertini per il carnevale che non piace a fratelli d'Italia e rispondono in 60 al Recruiting Day per giovani licenziati una iniziativa che permette di mettere in contatto questi ragazzi questi giovani licenziati con il mondo del lavoro che potrebbe eventualmente accoglierli in altri contesti la terna è azzerata Moretti ora basta vetti sui nomi del PD e la città si svegli si parla delle candidature da opporre a Ziberna per il comune di Gorizia per la città di Gorizia il segretario dei Democratici Bacchetta le civiche chiama i centristi tanti si lamentano e poi tacciono favorendo il Ziberna Bis c'è un po' di caos a Gorizia per quanto riguarda il centro-sinistra il Partito Democratico che non riesce a trovare un candidato ritenuto valido in grado di poter contendere a Ziberna la poltrona lo scettro di sindaco di Gorizia continuiamo la rassegna con le pagine sportive andiamo a vedere di nuovo il gazzettino torniamo sul gazzettino per leggere dello sport eccoci qui con Udoge Pereira armi anti Milan si potrebbe partire con i due dal primo minuto oggi non ce l'ha fatta ad essere in campo nell'ultima partita che l'Udinese ha giocato contro la Lazio Pereira ha giocato soltanto uno spezzone il laterale in campo dall'inizio sulla fascia sinistra consentirà a Molina di tornare al suo posto per il Tuk un minuto importante nella ripresa contro la Lazio e dunque possibilità adesso di riprendersi il ruolo da titolare Caso Viola Udinese virtuosa è stata il giudice sportivo nelle motivazioni con cui ha deciso che la partita va giocata ha parlato di Udinese che ha messo in essere messo in atto comportamenti virtuosi e dunque non poteva fare altrimenti quando non si presentò a Firenze per giocare la sua partita Orgoglio Molina in Friuli sono diventato grande l'argentino si confessa il papà misteri i fratelli viaggi e l'esplosione quando sono arrivato a Udine il capitano De Pol mi ha preso sotto la sua ala giocare con Messi è magnifico voglio migliorare sempre Molina è stato il protagonista di Udinese Tonight lunedì ospite in studio per parlare della sua carriera e della sua esperienza in maglia bianconera qui siamo sul gazzettino che parla del Pordenone che ieri ha preso un'altra batosta pesantissima contro il Monza quattro sberle dai Brianzoli Alteghi di Ramarri vengono travolti dal Monza di serio va a bersaglio nel finale la classifica piange partita di fatto già chiusa nel primo tempo troppi errori in difesa e l'attacco che non punge un Valotti ispirato fa la differenza sabato a Vicenza l'ultima chiamata per ritrovare la speranza andiamo sul messaggero per vedere le pagine dell'Udinese ed anche delle altre discipline sportive delle altre squadre della nostra regione per quanto riguarda l'Udinese non solo la tattica Cioffi deve sistemare anche gli scontenti qui vediamo un momento in cui De Orofeo con Cioffi dopo la sostituzione che evidentemente lo spagnolo non aveva gradito ma questi sono segnali che possono anche essere letti in maniera positiva quando un giocatore si arrabbia perché esce dal campo vuol dire che ci tiene vuol dire che è arrabbiato e questo non può che essere un segnale positivo poi è chiaro che tutto va ricondotto nei termini giusti a questo deve pensare poi l'allenatore pronti via Pordenone sotto 0-2 a Lignano e subito notte fonda qui Adriano Galliani che ieri sera abbiamo intervistato in Pordenone Tonight vi riproporremo l'intervista nel corso dei nostri telegiornali un'intervista molto importante che parla anche dell'udinese parla dello stadio di Udine come modello da seguire per lo stadio di Monza che Galliani vuol edificare per dare alla società Brianzola la possibilità un giorno una volta raggiunta la Serie A quello è l'obiettivo di poter sviluppare un progetto importante di spessore insieme a Silvio Berlusconi che è tornato nel calcio dopo aver lasciato il Milan proprio insieme a Galliani nel Monza la APU All Duel che è pronta al ciclo di ferro dopo aver vinto l'ultima partita in casa contro l'Orlandina adesso si entra in clima playoff da Torino al recupero con tutto nei prossimi 30 giorni in vado la possibile fuga in campionato e poi c'è la Coppa Italia che l'anno scorso vide l'APU arrivare in finale contro Napoli poi finale persa ma fu una grandissima Coppa Italia giocata dall'APU All Duel l'anno scorso speriamo si possa ripetere però con un risultato diverso finale cioè magari portando a casa il trofeo Gazzetta dello Sport vediamo i titoli del quotidiano Rosa che questa mattina ci propone in prima pagina il colpo di fulmine tra la Juventus e Vlaovic neanche un minuto Vlaovic ieri sera contro il Villareal sblocca il risultato poi finisce 1 a 1 si decide tutto il 16 marzo nel ritorno Allegri dice a Torino sarà una finale frattura per McKennie dunque un problema per Allegri l'infortunio al calciatore statunitense un muro per l'Inter difesa da giustare Sogno Cristen senno obiettivo Senesi a destra invece 100 milioni per il Milan strategie rossonere caccia ai nuovi gol col tesoro di Elliot c'è il talento Ektike andiamo a vedere le altre due prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ovvero il Corriere dello Sport e il Tutto Sport Tutto Sport che pubblica la foto di Vlaovic che dopo 32 secondi mette a segno il gol del vantaggio molto importante perché il gol in trasferta nelle partite doppie in Coppa vale sempre tantissimo Vlaovic festeggia l'esordine in Champions con un gol record dopo mezzo minuto poi nella ripresa la Juve subisce il pareggio del Villareal su disattenzione della difesa ma vede più vicini i quarti di finale il bomber serbo contento però dovevamo vincere il match di ritorno si giocherà allo stadium il 16 di marzo altre notizie sul tutto sport a destra di spalla Inzaghi Simone Inzaghi Vitamina Gosens il tedesco vede la luce e punta la convocazione per il Genoa può essere una risorsa chiave nella corsa Scudetto Gosens che ha lasciato l'Atalanta per vestire l'altro nell'azzurro quello di Milano Juric pensa in grande il tecnico sa che a giugno potrebbe perdere Bremer Pobega e Belotti ma si aspetta rinforzi veri e di qualità con il Torino che sta facendo abbastanza bene possiamo dire anche bene si aspetta poi di vedere confermare un organico magari non con gli stessi uomini ma con le stesse potenzialità andiamo sul Corriere dello Sport la Juve in un lampo Tavi di Champions 1-1 dei bianconnelli sul campo del Biglia Real non basta Vlaovic dopo 32 Allegri il ritorno come una finale il pareggia i conti nella ripresa difesa distratta il serbo al debut è subito dal record ma c'è Rammarico per non aver vinto vediamo qui in basso a destra la telefonata costa due turni a Murigno Roma dopo il rosso di Pareto squalificati anche il DG Pinto è il preparatore dei portieri pronto il ricorso di Gasperini stop di una giornata Totti Ilari la cena delle smentite crisi matrimoniale nuovi amori l'ira di Francesco basta fake news portate rispetto per i bambini ieri la famiglia al ristorante le voci di un flirt con la 33enne Noemi Bocchi è intervenuto Totti ieri con un video personale in cui ho detto sono stufo di dover smentire cose che non stanno né in cielo né in terra quindi tutto tranquillo apparentemente vedremo andiamo avanti adesso chiudiamo il nostro spazio con i consigli di visione di oggi con i programmi i telegiornali in diretta la nostra ora di informazione tra le 19 e le 20 replicata poi tra le 20 e le 21 con l'inserimento alle 20 e 45 delle pillole di fair play e poi lo speciale questa sera di fair play dedicato alla truffa del super bonus alle 21 saremo in in onda con questo speciale la truffa è dietro l'angolo cessione di crediti fiscali acquisiti senza effettuare i lavori ci sarà una testimonianza esclusiva andiamo un attimo anche su info viaggiando perché dalla regia mi segnalano che c'è un incidente e dunque andiamo a vedere a che altezza e se abbiamo già una stima di quelle che sono le conseguenze sul traffico sulla viabilità in quel tratto dell'A4 Torino-Trieste in direzione Trieste dove l'incidente si è verificato al chilometro 506 tra Bivio A4 A34 e Redi Puglia speriamo intanto che non ci siano delle conseguenze per gli occupanti della vettura o delle vetture incidentate vi terremo aggiornati notizie di pochi istanti fa dunque è importante anche per chi deve mettersi in viaggio attraversare quei tratti di autostrade informarsi prima di imboccare l'autostrade e magari trovarsi poi imbottigliati nel traffico grazie per essere stati con noi Trebi Meteo per le previsioni sulla nostra regione ci vediamo a mezzogiorno ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo contesto di alta pressione che tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì sul Friuli Venezia Giulia giornata quindi ovunque all'insegna del bel tempo in un contesto climatico mite in dettaglio tra Udine e Pordenone sole assoluto protagonista in un contesto di stabilità atmosferica temperature massime fino ai 14 gradi minime invece contenute e prossime allo zero situazione praticamente analoga anche tra Gorizia e Trieste infatti anche qui il sole continuerà a splendere ovunque le temperature minime saranno più contenute su Gorizia su Trieste invece valori intorno ai 6 gradi valori che comunque saranno contenuti temperature massime non oltre i 14 gradi ventilazione debole con mare ovunque calmo dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo a a a a a Grazie a tutti.